Più complicata del previsto? No, assolutamente. Anzi, devo dire la verità, pensavo che oggi la vittoria fosse molto difficile conquistare, perché ritengo loro una buonissima squadra, quindi secondo me è una grandissima prestazione. Proprio, assolutamente. Se vogliamo, non è questa, assolutamente. Abbiamo fatto una grande vittoria, una vittoria fondamentale, inaspettata secondo me, per varie situazioni, quindi sono contento, enormemente contento per la squadra. Queste le scelte iniziali di formazione, un po' come... Perché? Da dove sono docente? Cosa l'ha portata a puntare su Roger, quindi il giocatore era recuperato? Io ho uno staff medico, se lo staff medico mi dice che il giocatore è recuperato, lo faccio giocare, per me è un giocatore importante, lo staff medico stamani ha fatto l'ecografia di controllo, dopo che lui si è allenato ieri mi ha detto che il giocatore era recuperato, poteva giocare, e io l'ho fatto giocare. La Drezza ha fatto l'attacca stamani mattina, l'esito è stato negativo, lo staff medico, con tutti i dottori e i massaggiatori, mi ha detto che era disponibile e ho fatto giocare. Semplice. 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 Semplice.